Amore, come è andato il viaggio in treno? Stancante. E vabbè, un altro po' che siamo attivati, due passi. Però ti dico di una cosa, da che mi sei venuto a prendere la stazione, manco un bacio mi hai dato. Guarda, guarda i nostri vicini come si stanno baciando, guarda, perché non lo fai pure tu? Perché non lo fai pure tu? Amore, quello sta partendo, tu ora sei arrivato. Voglio vedere un po'.